Francesco Acerbi, escluso dall'Italia di Luciano Spalletti. Dopo quanto accaduto ieri in Inter-Napoli con il presunto insulto razzista rivolto a Juan Jesus, si è deciso di allontanare il difensore dei nero-azzurri. Il centrale della squadra di Simone Inzaghi, come evidenziato anche dal comunicato della federazione, ha parlato con Spalletti fornendo la sua versione dei fatti. Acerbi avrebbe spiegato che non ci sarebbe stato alcun intento diffamatorio denigratorio razzista nei confronti del giocatore del Napoli. Sta di fatto che, come previsto dalla polisi interna del Club Italia, per il momento il giocatore è stato allontanato dal ritiro azzurro con effetto immediato. Al suo posto è stato chiamato Gianluca Mancini della Roma, che si aggregherà al resto dei compagni. Intanto in città i tifosi del Napoli sono soddisfatti del risultato di ieri. A Milano, ascoltiamo. Avesse lo detto due giorni fa non ci aveva mai creduto. Il Napoli in quest'anno è meglio che passa presto il campionato. Ci rifaremo l'anno prossimo. Poteva essere una vittoria se magari nel finale Lindstrom non avesse sprecato di servire in gonce. Comunque la reazione c'è stata, l'orgoglio c'è, lo scudetto è ancora cucito sulle nostre maglie e penso che ieri sera l'abbiamo dimostrato. Poteva essere una vittoria, però accontentiamoci del pareggio. Un punto a Milano non è facile, è un po' difficile per la Champions, però in Europa League può andare tranquillamente. Sì, finalmente ci siamo divertiti. Peccato per la partita con il Barcellona, però le ultime partite stanno andando meglio. Ho detto miglioramento, da come stiamo a come stiamo va alla grande. Uno deve essere pure consapevole di quello che è successo tutta l'annata, quindi va bene così per il momento. Grazie.